L'economia, la finanza, il trading, gli investimenti, l'inflazione, le politiche fiscali, i dati macroeconomici, la noia, il sonno. Basta! Da oggi c'è Memeconomics, il nuovo format delle fonti tv che trasforma tutto questo in divertimento. La finanza, la prendiamo per il naso, i dati macroeconomici, una barzelletta, le politiche fiscali, le obbligazioni. Ma ci hanno rotto le scatole queste obbligazioni! I meme più divertenti della settimana legati all'economia, alla finanza e all'attualità. Memeconomics, solo sulle fonti tv.